Il 2023 ad Arezzo si apre con il concerto di Capodanno di Oida. Torna infatti al Teatro Petrarca l'evento promosso da Comune Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica dell'Orchestra Instabile di Arezzo, diretta dal maestro Alessio Tiezzi. Finalmente ritorna il concerto di Capodanno con l'Oida. L'altro anno purtroppo causa Covid saltò. Quest'anno invece ci siamo e non solo ci siamo, un po' per recuperare quello perso dell'anno scorso ma soprattutto per dare più possibilità a chiunque voglia vedere questo concerto abbiamo deciso insieme all'Orchestra di aprire la prova generale del 31 alle 10 in modo che si possa vedere, sentire soprattutto questo bellissimo concerto e dare possibilità a più persone di fruirne. L'appuntamento è per il primo gennaio alle 18 al Teatro Petrarca. L'evento è in grasso libero ma è necessaria la prenotazione. Sarà un viaggio nel mondo, cominceremo con l'Italia con Rossini e Gazaladra, poi andremo sulla Carmen di Bizet, poi Brahms, Vorjak, Strauss ovviamente, Danze Polovesiane di Borodin, un pezzo imponente, per terminare appunto con il Messico, Marquez e Danzone numero due che è un brano emblematico. e ci fa enormemente piacere tornare su questo palco dopo appunto anche lo scorso anno che saltò appunto per causa Covid. Ringrazio tutta la fondazione, quindi il direttore Cinatti e il maestro Zanon che comunque hanno continuato su questa tradizione del concetto di Capodanno al quale noi teniamo tantissimo. Grazie. Grazie.